incomincia finalmente la stagione estiva della centurion league la summer edition con il pp valenza e il new team ad aprire le danze qui al flaminio real di roma il new team che offende dalla destra il tocco centrale la palla che scavalca il portiere sulla traversa sfortunata qua la formazione in maglia blu occhio al valenza adesso tocco all'indietro arriva in corsa la palla fuori di un niente primo tempo non carichissimo di emozioni ricomincia adesso la seconda frazione di gara con il new team che allontana il pallone diventa un ottimo assist per il numero 11 bella la sterzata si mette in proprio ma calcia fuori dallo specchio calcio di punizione con il mancino in fondo al sacco il vantaggio per la squadra in maglia blu il new team riesce a sbloccare il risultato 1 a 0 ancora soluzioni in verticale sempre verso il proprio terminale offensivo colpisce solo l'esterno della rete però prova a partire di partenza il pp valenza il filtrante con il giocatore che trova un miracoloso intervento difensivo sulla linea di porta a negargli la gioia del gol ancora pp valenza ci stanno credendo i ragazzi maglia bianca palo anche a dirgli di no sfortunatissimo ancora calcio di punizione dalla destra tiro fuori senza grossi problemi occhio al numero 7 del pp che allarga la combinazione resista all'interno dell'area di rigore c'è stato il tocco e l'arbitro indica il dischetto e calcio di rigore in punto è ribattuto il numero 10 del pp valenza la portiere che intuisce la direzione ma non riesce a impedire la sfera di terminare in rete è 1 a 1 chiede i suoi di alzarsi ultimi scampoli di partita palla sventagliata profondissima l'aggancio e la girata di mancino scheggia il palo interno sulla distanza sul secondo palo e trova il gol del raddoppio in un team di nuovo in avanti calcio di punizione braccia alzate chiama lo schema la palla che termina in rete non so se era un cross destinata a qualcuno c'è stata la complicità del intervento mancato del portiere fatto sta che il pallone è terminato in rete doppietta anche per il numero 10 calcio di punizione la palla che gira e colpisce solo l'esterno della rete però il pallone che termina in fallo laterale l'arbitro dice non c'è più tempo per battere finisce in parità la prima uscita stagionale del torneo estivo tra pipi valenza e new team 1 a 1 stagionale del cube stagionale del cube Grazie a tutti